Borgetto in festa, tra altari, carri e buon pane condito, il paesino in provincia di Palermo riunisce moltissimi siciliani ogni anno per festeggiare San Giuseppe. Dal convegno sui frumenti siciliani del 15 marzo ai giochi pirotecnici della sera del 19. Anche quest'anno la tradizione vince anche sulle naturali divisioni politiche. Maggioranza e opposizione hanno infatti lavorato insieme per definire il programma di quest'anno. Il pane di San Giuseppe rappresenta l'abbondanza in questa festa di San Giuseppe che è il protagonista della festa di San Giuseppe, tant'è vero che le persone ringraziano i visitatori attraverso il pane perché una volta che si visita la mensa viene dato il pane con le olive. Il pane tra l'altro viene anche rappresentato in diverse forme, come per esempio il cesto che rappresenta il lavoro nei campi e come per esempio la palma che rappresenta la verginità della Madonna. Quello che possiamo notare è sicuramente l'arte che tutti i panettieri di Borgetto conoscono e rappresentano la storia di Borgetto. Le caratteristiche che loro mettono in evidenza sono quelle di forme artistiche particolari che assumono, abbiamo i panieri, abbiamo i vari cesti, ma non solo di pane, anche di frutta. Abbiamo comunque delle condizioni particolari che si vengono a creare, che fanno armonia sia a livello artigianale, sia a livello artistico, a livello culturale, è chiaro, il folklore, abbiamo tutto, non c'è solo il pane. Invito tutti praticamente a visitare le mense e partecipare a questa manifestazione che appunto parte dal giorno 15 al giorno 19. Sarà molto bello visitare sia le mense ma anche tutti gli aspetti che stiamo curando dalla fiera, dal discorso del convegno del giorno 15. È un aspetto culturale e religioso nell'insieme dove promuoviamo anche i prodotti nostri tipici che abbiamo a Borgetto e quindi l'invito a tutti a venire con una cosa di molto particolare che stiamo creando. Ci saranno anche pure dei balli, ci saranno i carri siciliani che sfideranno. Il Paese è in festa Il Paese è in festa